Campo San Martino ha minacciato la commessa di un supermercato imbracciando un fucile e intimandole di consegnargli il denaro in cassa ed è poi scappato a piedi con un bottino di 400 euro facendo perdere le proprie tracce. Sulla rapina indagano i carabinieri di Cittadella, l'uomo agito a volto coperto. Villanova di Campo San Piero sono ricoverate con ferite gravi ma non sono in pericolo di vita. Due donne di 40 anni investite da un'auto che si è poi allontanata a lanciare l'allarme a residenti e clienti di un vicino locale. Oltre al suo M118 è intervenuta la polizia stradale di Piove di Sacco, indagini in corso per risalire l'automobilista. Piazzola sul Brenta, commemorazione in occasione del 27esimo anniversario della scomparsa del brigadiere Germano Craighero, medaglia d'oro al valore civile caduto a Nassiria. Dopo la cerimonia, il monumento intitolato alle vittime della strage davanti alla stazione dei carabinieri è stata ufficiata una messa in suffragio al Duomo.